In Albania, nel National Park di Avaca, Karavasta, in un'area di oltre 22.000 ettari, con la sua laguna tra le più grandi del Mediterraneo, è nato il Giardino Angelo Vassallo, con la piantumazione di 150 pini di Aleppo. «Verrò presto da voi», ha detto Dario Vassallo agli organizzatori. «Verrò per visitare il parco, la laguna, osservare migliaia di uccelli, milioni di piante, ma soprattutto per stare due giorni con voi per consolidare la nostra amicizia». Nel parco, inoltre, ci sono centinaia di pellicani che vivono e si riproducono. Sono rimasto molto affascinato perché il pellicano è anche un simbolo di pollica, contenuto nello stemma del comune. Lo staff della DZM Fierre e i membri dell'Associazione Luschnia hanno piantato 150 pini nel Parco Nazionale di Viaca, Karavasta, azione che rientra nell'Art Hour, evento organizzato dal WWF, con carattere sensibilizzante che invita tutti i politici del mondo ad essere responsabili nell'adottare politiche ecosostenibili per contrastare il riscaldamento globale da parte dei loro governi. L'azione che abbiamo voluto dedicare ad Angelo Vassallo, il sindaco di un piccolo comune d'Italia che ha combattuto tanto per proteggere l'ambiente, sottolineano i volontari, e trasformato l'amministrazione a servizio della comunità. Ha avuto il coraggio di dire no agli investimenti sospetti, eletto tre volte presidente della comunità montana e unico candidato a sindaco al quarto mandato, ucciso il 5 settembre 2010. Le piantine sono state donate al Parco da Dario Vassallo, fratello dell'eroe. Luschnia Association, tra i punti del suo programma, ha anche la tutela e la promozione dei valori naturali e della bellezza dei territori nell'ambito della giornata mondiale. Heart Watch, con i suoi attivisti, ha piantato oltre 150 pini nuovi per riforestare la costa del mare del Parco Nazionale di Diviaca. Oggi abbiamo iniziato e creato l'area Angelo Vassallo, un'azione di volontariato degli attivisti di Luschnia in onore di questo sindaco, ucciso per i suoi ideali e per la visione di proteggere l'ambiente e il mare, ma anche come apprezzamento e sostegno dei colleghi italiani, che due anni fa hanno gemellato la fondazione Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, diretta dal nostro amico presidente Dario Vassallo, coinvolgendoci nella loro causa e nella ricerca della verità, dando il messaggio che, anche se il mare ci separa, ma noi come popoli e cittadini dell'Europa unita abbiamo cause comuni. Le nostre due sponde sono più vicine a oggi che mai.